Prima di giudicare una persona, cammina due lune nelle sue scarpe, dice un proverbio siù. Two Moons, o due lune in italiano, è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, che ha l'obiettivo di trovare modi nuovi per sensibilizzare ed informare sui diritti umani delle persone anziane, aiutando i cittadini e gli operatori del settore a mettersi nei loro panni, per capire insomma com'è camminare nelle loro scarpe. I diritti umani sono spesso concepiti come dichiarazioni di principio e c'è scarsa consapevolezza di come essi si inseriscono nella vita di tutti i giorni. In realtà i diritti umani riguardano i bisogni vitali, spirituali e materiali della persona. Sono i diritti alle fondamentali libertà civili, politiche, sociali, economiche e culturali. Sono ciò di cui ogni persona ha bisogno per poter essere considerata e sentirsi degna di essere definita un essere umano. Ed è importante che siano conosciuti, perché ogni volta che ci dimentichiamo di averli o di rivendicarli, oppure ogni volta che qualcuno non le riconosce, li comprime, li infrange, anche attraverso le leggi. O ancora, se i diritti umani non sono considerati nelle premesse di un ragionamento giuridico o tra i fini di un intervento legislativo, il diritto smette di avere la sua funzione migliore, e cioè essere uno strumento per far vivere meglio le persone, come individui e come società. Quando poi i diritti violati sono quelli delle persone fragili, come gli anziani, e ne abbiamo avuto esperienze in questi giorni, le conseguenze possono essere drammatiche. Tumuns vuole aumentare l'attenzione sui diritti umani delle persone anziane, dando voce alle storie vere di anziani europei che hanno visto i propri diritti umani trascurati o violati. Storie che sono state poi tradotte in monologhi teatrali. Ascolteremo le storie di Tom, dalla Romania, le cui condizioni di vita sono state stravolte dalle conseguenze di Unictus, di Rubi e Joan, dall'Irlanda, che lottano per il riconoscimento dei propri diritti di persone malate, di Ingrid, dalla Finlandia, vittima di violenza e maltrattamenti in famiglia, e di Chiara, dall'Italia, la cui sicurezza viene più volte violata nel quartiere popolare in cui vive. Cominciamo allora a capire com'è camminare nelle scarpe di questi anziani. Buon ascolto. Compagnia Teatri d'imbarco, Firenze. Anziani e non solo, Carpi, con Abilitast, Bucarest, Voiva, Helsinki, CLJ, Dublino, The Getty School of Actin, Dublino, presentano Two Moons, le nostre voci. Drammaturgia, The Getty School of Actin. Adattamento teatrale e regia, Nicola Zavagli, con la consulenza di Salvatore Miglianta, organizzazione Licia Boccaletti e Cristian Palmi, voci recitanti, Beatrice Visibelli e Matilde Zavagli. Signore e signori, eccoci giunti alla quarta tappa di questo viaggio in Europa per conoscere un po' meglio la condizione in cui vivono i nostri anziani e le piccole e grandi ingiustizie che subiscono. Lo ripetiamo ancora, gli anziani sono esseri umani, non vittime. E non vogliamo che siano vittime in quanto anziani. Per questo vorremmo dire insieme a voi, basta, voglio fare qualcosa perché in questo mondo dove tutti dovremmo essere più solidali, questo non accada più. Ma ora, ascoltiamo la storia di Joanne. Beh, ti dirò una cosa divertente. Sono diventata molto brava a proteggere i miei diritti sono convinta che la testardaggine sia una gran qualità quando si diventa vecchi. Due anni fa ho avuto un ictus. Nessuno mi ha detto quale parte del cervello era stata colpita. Un anno dopo ho scoperto che era la parte destra e per questo potevo avere un senso falsato della mia disabilità, cioè potevo pensare di stare meglio di come stavo in realtà. E infatti l'ho pensato. Ho negato la mia disabilità. La chiamano lesione cerebrale acquisita. Devo dire che in ospedale ho ricevuto un ottimo servizio. Mi hanno rivoltata tutta come un calzino. Ho uno stomaco di ferro e niente lo può turbare. Il che è una gran qualità quando vai a casa con una valigia di medicine e due settimane di riabilitazione. Ora, quando dico riabilitazione intendo una vera fisioterapia con un bel lettino tutto a mia disposizione. Dopo o poi sono stata in grado di camminare decentemente. Non benissimo, ma insomma. Purtroppo ero da sola e non mi hanno fatto nessun controllo per vedere se stavo meglio. A essere sincera gliel'ho detto io che stavo meglio. Avevo una gran voglia di uscire da quell'ospedale. Non ne potevo più alla fine, però ho dovuto richiamarli perché stavo aspettando una protesi per l'anca e il chirurgo voleva una lettera dal cardiologo. No, stai a sentire questa? In realtà io non ho mai incontrato un cardiologo. Era un geriatra che mi disse che potevo riavere la mia vita. No, purtroppo mi ci è voluto un sacco di tempo per rendermi conto che non potevo riavere la mia vita di prima. Comunque era un geriatra e non un cardiologo, ti rendi conto? Ora l'unica cosa che mi preoccupa è che conosco altre persone che hanno avuto un ictus e non prendono tutte queste medicine che prendo io. Quindi chi è che controlla? A dire la verità il mio medico lo fa e sono fortunata ad avere un buon medico di base. Allora vuoi un consiglio da me? Ascolta, ascolta, appena compi 40 anni o giù di lì cercati un buon medico di base e se non ti piace scaricalo e trovane uno nuovo fallo perché se non ne trovi uno giusto entro i 40 anni rischi grosso se qualcosa più tardi va storto. Comunque io sono tornata da quel dottore e gli ho detto che stavo bene, avevo bisogno solo di due o tre cosette, devo fare fisioterapia, la gamba la sento pesante che mi pare incollata a terra e ho paura di cadere e poi sono sempre molto stanca e gli ho detto che mi sentivo anche depressa. No, e aspetta, aspetta, senti questa, quello lì, quel dottore rincoglionito si è seduto senza mai guardarmi in faccia e ha occhi bassi e mi fa, beh, noi non sappiamo perché alcune persone si sentono stanche dopo un ictus, noi non sappiamo perché alcune persone si deprimono dopo un ictus. No, dovevo capirlo da sola, ti rendi conto? No, io volevo fare qualcosa ma non volevo prendere tutte quelle medicine che poi divento dipendente e così ha altro problema e ci manca anche quello. Poi mi ha fatto trottare lungo il corridoio per vedere la gamba, ma la sua gamba sta bene, può tornare a lavorare. Ed ecco che in un minuto ero fuori scaricata, pensa, solo tre mesi dopo aver avuto un ictus che idiota di dottore. Grazie a Dio ho un buon medico di base. Tre giorni dopo non vado a cadere per la gamba che si era incollata al pavimento e mi rompo il bolso. Quindi l'ho richiamato quel dottore e gli ho detto che volevo delle scuse. Non so chi si creda di essere, ma per quanto ne so io è un dipendente pubblico pagato dalle nostre tasse e se non mi chiede scusa io faccio un casino della madonna. Mi ha chiesto scusa, no non di persona, per telefono. Poi ho lasciato perdere, ma solo dopo avergli consigliato di impararle due o tre cosette sugli ictus, perché è chiaro che non ne sapeva niente. Ovviamente non ha risposto, quindi gli ho mandato una lettera, ma voglio dire, ma che arroganza! E anche la memoria. Peggioravo, perdevo le cose, una volta dimenticavo la borsa, un'altra il telefono. Ero completamente a terra, ma io non sono così. Allora sono andata a un centro per l'ictus gestito da volontari e scopro che non potevano fare niente per me perché il limite d'età era 65 anni e io avevo appena compiuto 65 anni. Ma se due anni fa mi avessero dato queste informazioni dopo l'ictus, avevo 63 anni e potevo fare questa terapia. Non mi hanno neanche detto quale parte del cervello era stata colpita. Avevano fatto l'attack, potevano dirmi cosa poteva succedermi. Quando ho avuto l'ictus avevo l'età giusta per usufruire di tanti servizi, ma quando sei anziano non sei più una priorità. E ho capito che effettivamente non ci sono più tanti soldi per quelli della mia età. È molto ingiusto perché adesso la maggior parte delle persone lavora fin quasi a 70 anni. Ora io scrivo sempre delle lettere. Ho scritto al tizio che mi ha visitato in riabilitazione per chiedergli qual è il protocollo per i pazienti con ictus quando vengono dimessi. Ho portato la questione fino al ministero. Non mollo l'osso io. E gli ho detto caro ministro se hai un problema con le barelle che intasano le corsie del pronto soccorso ti do un consiglio. Dai a persone come me che hanno avuto un ictus la possibilità di fare una fisioterapia come si deve e non rischieranno di cadere per terra da tutte le parti e rimanere nella merda. È la mancanza di informazione caro ministro. Non si dovrebbe andare in giro a cercare le informazioni. È un mio diritto sapere tutto sulla mia salute e cosa posso fare quando esco da un ospedale. Se l'ictus mi prendeva l'altra parte del cervello potevo perdere la parola. Oh beh è una benedizione che non è successa caro ministro perché poi io vivo con un ventenne e devi poter urlare a un ventenne. Pensa potevo finire a vivere con mia sorella? Oddio no! Che incubo! E dico sempre è perché sono testarda che sono riuscita a riprendermi così bene. Non sono una che si arrende io. Ripeto essere testardi è una gran qualità quando si invecchia. E ora vado che devo scrivere un'altra bella lettera al ministro. Quando ti imbatti in un danno alla salute la vita si inceppa e hai bisogno di informazioni, cure e tempo. Altrimenti si cade come Joanne e si ritorna a gravare sul servizio sanitario. Quando ti imbatti in un danno alla salute hai bisogno di sapere cosa ti è successo per poter provare a decidere quel che potrai fare. Se non sai cosa hai avuto, se non sai cosa puoi fare per curarti. Non puoi nemmeno pensare a una tua nuova autonomia. Non potrai mai progettare una tua nuova vita. Potrai solo subire una vita priva del potere di decidere e di fare quel che vuoi. E non poter fare quel che vuoi per come sei o per l'età che hai è discriminazione. Significa avere meno opportunità tra cui scegliere. E allora vuol dire che la scelta per te la fa chi ti discrimina perché ti toglie lui arbitrariamente le opzioni tra cui scegliere. Limita il tuo volere, riduce il tuo valore e ti toglie la dignità. Quando ti imbatti in un danno alla salute hai bisogno di cure. Ma le cure non sono soltanto una valigia di medicine, cure mediche e prestazioni sanitarie. O meglio, sono tutte queste cose, ma adattate a quel che sei dopo la tua menomazione. E per questo c'è bisogno più che di una prestazione di cure. C'è bisogno di una relazione di cura. Tuttavia le relazioni necessitano di tempo. Allora, un semplice concetto vorrei farti notare, che è un concetto bellissimo. Nel diritto il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Il che significa che l'ascolto è già cura. La vecchiaia è rispettata soltanto se sa difendersi da sola, se mantiene inalterati i propri diritti, se fino all'ultimo respiro non si rende schiava di nessuno. Come infatti approvo il giovane in cui ci sia qualcosa di senile, così approvo il vecchio in cui ci sia qualcosa di giovanile. Chi si attiene a tale norma potrà essere vecchio di corpo, ma non lo sarà mai di spirito. La vecchiaia di Marco Tullio Cicerone.